A Reggio Calabria la Guardia di Finanza è coordinata dalla Procura della Repubblica della Città dello Stretto, ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale che dispone il sequestro di una ditta individuale, sei mobili, tre autovetture e numerosi rapporti finanziari riconducibili al pregiudicato mafioso Tito, Giuseppe e Stefano Liuzzo e al suo nucleo familiare. Il valore complessivo stimato dei beni sottoposti a sequestro ammonta 2 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento è messo dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Ricino su richiesta della locale Procura della Repubblica focalizza l'attenzione su uno dei più noti imprenditori ai dili a suo tempo attivi nella provincia di Reggio Calabria, attualmente detenuto poiché tratto in arresto per associazione mafiosa nell'operazione Araba Fenice condotta dalla Guardia di Finanza nel 2013. Dalle indagini svolte in particolare era emersa l'appartenenza del Liuzzo alla cosca di Drangheta Rosmini per conto della quale, come anche confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, egli aveva curato gli illeciti interessi economici soprattutto nel settore dell'edilizia privata. Nello stesso contesto è stato anche accertato la riconducibilità di fatto al Liuzzo di diversi beni formalmente intestati a soggetti terzi e in particolare alla compagna Serena Assum e al fratello di quest'ultima, Natale Assum, anche egli destinatari di provvedimento restrittivo della libertà personale nell'operazione Araba Fenice.